Buongiorno, Armenia. È un vero piacere poter far la vostra conoscenza in questa sede, che è quella del DFA. Sono Alberto Caglioftro, il direttore del DFA in Italia. Siamo tutti armeniani. Siamo una piccola, ma una nazione globalizzata. Viviamo in più di 120 paesi nel mondo. È importante creare un network internazionale, un business network di armeniani, per rivolgere i nostri avventi comparativi e il nostro potenziale, per consolidare l'Armenia e la nostra diaspora internazionale. Un workshop dove poter lavorare all'interno del mondo del Caucaso è una porta d'ingresso dell'Unione Europea, per i paesi dell'Unione Europea e per gli imprenditori dell'Unione Europea. Se veramente avete voglia di entrare all'interno del DFA dovete credere in due cose. Innanzitutto dovete credere in voi stessi, perché la prima è fondamentale step da fare. E secondo ovviamente dovete credere nel paese Armenia e in tutte le potenzialità che può offrire a tutti gli imprenditori italiani e europei che vogliono venire in questo stupendo paese. I hope you're joining our international team of DFA and helping to bring new opportunities and new developments for Armenia. e in cui dovete cercare la nostra regione e dovete cercare la nostra regione. Grazie a tutti.